Allora Luigi, raccontaci questa piattaforma fantastica, io a tenerla in mano già sto godendo, dici un po'. Il concetto è, voglio una meccanica super affidabile come la K, in un calibro super cheap come il 9, facilmente accessibile eccetera eccetera, senza rinculo, ma voglio impugnarlo come se fosse una carabina. Per cui la versione base è un pack 9 della chiappa, che in realtà è un nuovo modulo rumeno, importato, e al quale sono state fatte queste seguenti modifiche. La paletta e l'ammorbidimento del selettore per poter selezionare senza spostare la mano, guardate che roba ragazzi, grip 90 gradi e 45 gradi tipo AFG, compensatore in Airglas 775 T6, Tutta la copertura dell'arma è stata fatta in ceramica, in modo che non hai l'angoscia del, ah mi piove, fa la ruggine, il polvere da sparo mi fa la ruggine, tutto, anche la meccanica è tutta coperta di ceramica. Spettacolo. Scalciatura, scheletrata, con il C-Criser per andare in lineamento con il Red Dot, ottimo. E il Magwell è stato cambiato dal Magwell della Beretta 92, è stato messo un Magwell della Glock, perché il proprietario aveva bisogno di caricatori più leggeri e di capacità più alta, con più facce di riprendere. Ovviamente, ovviamente, tutto quello che, cioè questa è proprio la base dell'arma sportiva, ha stato armamento a sinistra, perché se per dover armare, oltre a girare, passare sotto, nascondermi, armamento a sinistra. Fantastico, fantastico. Avete capito ragazzi? Quindi, vi ricordate, voi sapete, anche per i neofiti, di solito noi abbiamo l'asta di armamento della K da questa parte, siamo abituati a caricare da questa parte, quindi la gente o fa questo, o fa questo, mentre invece qua, l'asta di armamento a sinistra, boom, subito, eh? Molto, molto valido. Luigi, ci dici dove possiamo trovare questa piattaforma? Questa è la piattaforma che preparo io su richiesta dei clienti. Ah, la prepari tu questa? Il disegno. Fantastico. E ci accordiamo e la costruiamo insieme. È un'arma economica e molto funzionale e soprattutto è stata basata sulla K, è importante. La tua armeria? Free Shot a San Giuliano Milanese. Free Shot a San Giuliano Milanese. Anche questo è Tattica Professional Academy. Grazie Luigi. Grazie a voi.